Rosi Bindi ha fatto un'affermazione che appena l'ho letta l'ho trovata molto grave, ma siccome può capitare anche alle persone più autorevoli che ricoprono incarichi importanti di essere infelici, ho atteso se quella frase venisse corretta o interpretata. Lei c'è ritornata e perseverare diabolico. Lei ha confermato che la camorra è costitutiva della città di Napoli. Siccome abbiamo studiato tutti quanti lingua italiana e costitutiva non è una bella affermazione anche dal punto di vista semantico del linguaggio italiano, ma è molto chiaro. Costitutiva significa costituzione e lei ha confermato che l'origine della città di Napoli e quindi di chi è nato per primo qui, napoletano, coincide con la camorra. Altra cosa è dire, e io non prendo come me e come altri che lottano da una vita per le mafie, elezioni da nessuno, soprattutto da chi si improvvisa nella lotta alla mafia, perché magari è nominato in un Parlamento e non ha vinto un concorso per fare il poliziotto, il magistrato, è stato eletto sindaco dal proprio comunità. Quindi io mi rifiuto di immaginare che la città di Napoli abbia origine con la camorra e che quindi il primo napoletano coincide col primo camorrista. La camorra c'è da decenni. Se non è stata sconfitta è anche perché i partiti per troppo tempo ci sono andati a braccetto, perché c'è stata una politica, un pezzo di istituzioni, di imprenditori e anche di borghesia che hanno colluso con le mafie, ne hanno fatto parte organica. Noi qui stiamo facendo, qui come in Calabria, in Sicilia, in Puglia, a Milano, a Roma, si fanno battaglie culturali, civili contro le mafie. Quindi è veramente assurdo che si dica, ah il sindaco nega che ci sta la camorra. Insomma io non posso credere che stiamo poi a questa, come dire, veramente gioco di parole. Allora io non mi accontento più di interlocuire con la Bindi, lo dico con molta sincerità, con umiltà e senza alcuna presunzione. La Bindi ha confermato le sue affermazioni. Allora io devo sapere dal Parlamento italiano, quindi devo sapere dal Presidente della Camera, Boldrini, e dal Presidente del Senato, Grasso, se il Parlamento italiano condivide l'affermazione che l'origine di Napoli coincide con l'origine della camorra. Perché in qualche modo, è come dire, che siccome anche nell'impero romano c'è stata la decadenza per la corruzione, l'origine di Roma, ma mi rifiuto proprio, si fa proprio un'operazione. Allora siccome io immagino e spero che la commissione antimafia sia venuta a Napoli per darci una mano, e dall'audizione mi sembrava che volessero capire quello che noi stiamo facendo, quell'affermazione è un'affermazione che, come dire, è inaccettabile e crea effettivamente un forte disorientamento. Io mi aspettavo che il Presidente della Commissione antimafia veniva qua e diceva, io sto vicino, cioè non si è forte, cioè questo lo Stato deve avere un valore simbolico e poi deve fare azioni concrete. Se invece getti un disorientamento di quella portata che è quasi embrionale, è fetale, è ginecologico, legame, se addirittura risale alla storia vuol dire che non si può sconfiggere. C'è Giovanni Falcone che diceva che le mafie sono un fatto umano, quindi fatto umano significa che a un certo punto sono nate e hanno un'origine, hanno una fine. Se invece parlo di storia di Napoli io la voglio identificare, magari anche con la complessità dei napoletani, anche con le contraddittorietà delle napoletane, anche con i difetti, ma viva Dio, con la cultura, con il teatro, con l'ambiente, con il paesaggio, con i monumenti. Così si rafforza l'azione di chi ogni giorno ci mette la faccia e non che viene qua, arriva un giorno con le macchine blindate, le sirene, si fa mezza giornata e ci dice che noi nasciamo con la camurra. Ma io più giorno, ma soprattutto sono arrabbiato perché le ha confermate. Cioè questa è una cosa che io non posso accettare, non mi interessa la gran cassa poi di dover dire, eh ma il sindaco nega la camurra, perché questo è ancora più grave, offensivo e direi diffamatorio. Quindi la Bindi si sta trascinando in una stare senza ritorno. Ecco perché io con la Bindi ho detto questo e spero di non ritornarci mai più a dialogare se non nelle sedi istituzionali. A me interessa sapere se il Presidente della Camera e il Presidente del Senato condividono questa affermazione, perché altrimenti si pone un problema molto serio tra la comunità napoletana e un'istituzione del Paese. Perché se l'istituzione del Paese condivide che noi nasciamo con la camurra, beh a quel punto ne prenderemo atto e ognuno tirerà le proprie conseguenze.